La prossima settimana inizieranno le operazioni di trasferimento del comando di polizia locale del comune di Capaccio presso l'ex macello che sarà la nuova sede. Il comune, guidato dal sindaco Italo Voza, ha già affidato il trasferimento della centrale operativa e la nuova struttura è stata interamente riqualificata. L'area si estende per circa 5.000 metri quadri e l'edificio è stato dotato di un piano in più. Inoltre un impianto fotovoltaico e uno di pannelli solari per l'acqua calda sono stati installati sul tetto. La struttura comprende 940 metri quadri che saranno destinati agli uffici e altri 400 metri a depositi e tettoie. Tra l'altro l'edificio si presenta con un deposito per veicoli sequestrati, armeria, sala operativa di videocontrollo, camere di sicurezza e spogliatoi con docce. Inoltre la nuova sede del comando di polizia locale comprenderà anche diversi uffici comunali. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con 2.662.000 euro di fondi e il prossimo lunedì partiranno così le operazioni di trasferimento del comando.